bella a tutti ragazzi shakari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti benvenuti a questo nuovissimo video oggi ci troviamo indovinate dove vabbè l'avete già visto dal titolo ci troviamo qui al mercatino giapponese di nuovo qui a capanelle ci troviamo qui al mercatino giapponese a capanelle e ovviamente vediamo quale cosa ci sta quali cosplayer ci sono perché ho visto che ci sono parecchi cosplayer anche anche qua anche dopo una bufera di pioggia ci sono i con non molliamo mai ragazzi non vogliamo mai andiamo subito a vedere cosa ci sta qui al mercatino giapponese ma ovviamente dopo che come al solito già lo sapete vi siete iscritti al canale alla temata campanella mettete like raga mettete like commentate e fa tutte cose che dovete fare sempre daie 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 andiamo subito a vedere cosa c'è qui dietro al mercatino giapponese arriviamo qui al mercatino già ci vedo già la giapponese la giapponese del mercatino giapponese giusta stai vediamo vediamo se vediamo se parla come ti chiami lisa lisa e parla la giapponese siamo tornati qui a capanelle ci ci piace ho visto che ci stanno un'altra locale un'altra zona nuova avete aperto l'area tolc eh si i tolc c'erano già già c'erano aperto no dipende a volte li mettiamo la tipo ieri e cosa fate oggi c'è qualche tolc per caso sì sì il programma è lì ci sta il programma andiamo su volta a vedere e quindi raga possiamo entrando stiamo entrando nell'area tolc del mercatino giapponese vedete hanno allestito proprio tutta la zona con le sedie il palchetto raga mi piace molto tante belle novità e andiamo a vedere cos'altro ci sta qui al mercatino giapponese perché ho visto che ci stanno tantissimi tantissima roba devo dire allora e quindi vediamo ci stanno il sacco di maschere di come bancarelle se l'usci ci sta un bel po di roba ci sta eh ciao ma quanto sei bella 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 ma quanto sei bella